La mescita al bar, l'attività di facciata, lo spaccio di stupefacenti, quella nota per i consumatori di tutta la provincia. Lunghi mesi di indagini hanno consentito alla squadra mobile di Belluno di fermare quel commercio illegale di droga, per lo più cocaina. In carcere a Baldenic, giovedì mattina è finito Roberto Dalborgo, il cinquantenne titolare del bar Sport di Sois. L'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla procura ed emessa dal GIP del Tribunale di Belluno è stata eseguita dagli uomini diretti da Jacopo Ballerin. Un'indagine è partita la scorsa estate dopo l'arresto di un corriere della cocaina sudamericano, nella cui auto nascoste all'interno di un seggiolino per bambini vennero trovati quasi tre etti di cocaina. Ma l'uomo non era l'unico ad approvvigionare il locale. Gli agenti dell'antidroga di Belluno ne hanno individuati e arrestati altri sette nel corso dei mesi. Tutti garantivano a Roberto Dalborgo un flusso costante di cocaina per un giro d'affari stimato per difetto in circa 300 mila euro all'anno. Un pregiudicato navigato e scaltro è il Dalborgo capace lo scorso inverno di architettare un episodio di calunnia contro un testimone quando iniziò a subodorare i guai con la polizia. Al momento dell'arresto in flagranza ieri mattina Dalborgo si è chiuso a chiave nell'ufficio del bar costringendo i poliziotti a sfondare la porta. Nel locale il pregiudicato stava cercando di sbarazzarsi di pezzi di stupefacente. La notizia dell'operazione della mobile è arrivata alla vigilia dell'anniversario di fondazione della Polizia di Stato e al termine di un anno contrassegnato dai servizi anti-covid, dall'impegno garantito in occasione dei mondiali e da numeri che confermano il trend in discesa dei reati in provincia. Domani, proprio a causa delle norme anti-covid, alla caserma Raniero sarà deposta una corona dall'oro accanto alla targa in ricordo dei caduti.